La questione a cui tu hai accennato sulla responsabilità umana nella crisi climatica nel cui è l'antropos, l'uomo, soggetto di questa frattura del ricambio energetico con la natura del mondo umano. Contestualmente nel momento in cui dichiari che ci sono disuguaglianze, soggetti che hanno un altissimo livello di consumo e altri che invece ne battiscono le conseguenze e ne sono tragicamente vittime. Non è l'uomo nella sua genericità, ma è un meccanismo che genera disuguaglianze, quello che noi definiamo il capitalismo. Ci ritrovi totalmente. Infatti già da diversi anni si parla di antropocene, cioè siamo nell'era geologica dell'uomo, anche se hanno tentato a livello internazionale proprio di codificarlo e poi qualche mese fa questa codifica è stata un po' bocciata. Da una parte abbiamo la CO2, il cambiamento climatico, oppure abbiamo le esplosioni nucleari, abbiamo i rifiuti che sono legati proprio con le pietre. Quindi siamo riusciti, noi come genere umano, a modificare proprio... Lasciare... Esattamente, proprio a livello di strato geologico. In realtà lascia fuori delle responsabilità. Ci sono delle responsabilità che sono diverse e quindi il sistema attuale in cui noi viviamo il capitalismo e quindi l'era geologica dovrebbe essere il capitalocene. La responsabilità è sistemica, del sistema economico, globale, culturale e sociale in cui noi viviamo oggi. Che crea le disuguaglianze, il modello economico, lo sfruttamento della natura e così via. Però in questo senso mi verrebbe anche da chiederti se sei d'accordo con una parziale, forse, non so se è riformulazione o chiarificazione, parlando di capitalismo, ovvero di modo di produzione e quindi di dinamiche di classe, l'idea che la questione ecologica e le questioni ecologiche collegate, oltre che essere questioni genericamente sociali che è vero come ambito, però sono anche questioni di classe. Quindi è una questione legata letteralmente al discorso di classe, che con classe non si intende per forza a classe come nell'Ottocento, ovviamente, ma si intende la questione della produzione e del lavoro. Io penso che le classi sociali esistano ancora e siano determinate da relazioni nel mondo del lavoro. Rispetto ovviamente all'Ottocento è un qualcosa di molto più complesso, parliamo del precariato ad esempio, parliamo delle dinamiche a livello planetario, di sfruttamento, neocolonialismo anche. Quindi diciamo che il capitalismo è una forma economica molto efficace, che è riuscita a reinventarsi nel corso degli anni, a allargarsi su scala planetaria e a sostenersi. Il problema è che ci sono dei limiti, ovviamente, a livello planetario. La natura, le risorse e lo spazio abitabile arriva fino a un certo punto. La classe e le relazioni di classe esistono e vanno in qualche maniera cambiate, però rispetto a una certa visione marxista, penso che bisogna essere un pochino più fini nella nostra analisi e il concetto di nominazione ci aiuta. All'interno di questa grande categoria di concetto di nominazione rientra anche le relazioni di classe, ma rientrano anche le relazioni ad esempio tossiche all'interno di una coppia, forme di patriarcato, forme anche di dominazione di tipo politico. E quindi, secondo me, parlare di dominazione è un qualcosa di più fine per analizzare la crisi attuale e andare anche a vedere cosa va cambiato. Secondo me, non tutto può essere visto come uno scontro tra classi. Quando intendo leggerlo come questioni classi non voglio dire negare l'elemento della dominazione o dell'oppressione, che possa essere nel campo del genere, nel campo dell'ecologia, eccetera, ma evitare che questa cosa non venga ricollegata alla dimensione materiale. Leggere anche gran parte del disastro ecologico non soltanto come un'idea di dominazione dell'uomo sulla natura, come l'effetto concreto di una gran quantità, e quasi sicuramente la finezza anche interpretativa fondamentale, una gran quantità di processi, sottoprocessi, eccetera, eccetera, legati a dinamiche materiali, non solo di dominio astratto. Di potere. Sì, potere come un'istanza a sé, come un'istanza geistlicha, scusami, spirituale in questo senso. Sono d'accordo, però la metto sul tavolo, ecco. Nell'ottica di costruire culture di resistenza, quanto può essere utile parlare di dinamiche di classe? E non ha una risposta, eh. Ha senso parlare della popolazione attuale 2024 di lotta di classe o di relazioni tra classi? O forse dobbiamo, forse neanche il termine dominazione o potere è il termine corretto, però il mio stimolo è che termini dobbiamo utilizzare quando noi andiamo a parlare con il nostro vicino di casa, quando vogliamo in una qualche maniera cambiare il mondo. Cioè la comunità non è un qualcosa di astratto, è che abita attorno e che linguaggio vogliamo utilizzare. La domanda è, ha senso utilizzare questi termini? Rimangono sempre, ovviamente, come forma di analisi. Ma quando noi vogliamo poi costruire qualcosa, andiamo a utilizzare questi termini o qualcos'altro? E questa è una domanda ovviamente aperta. Secondo te da cosa può derivare una difficoltà nella comunicabilità di un problema come quello del cambiamento climatico? Penso che sia un problema di traduzione, di utilizzo di termini che possano in qualche maniera dialogare con della popolazione che abita nel 2024 in quello determinato spazio, quindi in relazione allo spazio e al tempo, che cambia. Nel corso della fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, c'erano altri problemi. C'era il sol dell'avvenire, c'era il soggetto rivoluzionario, c'erano le pratiche, c'erano i comunisti, gli anarchici, i socialisti e c'erano i padroni. C'era forse più semplice, ma la lotta era enorme, titanica, andata male, abbiamo perso, però c'erano delle pratiche e c'era un'utopia. E quindi c'erano milioni di persone che ci credevano e c'era appunto un linguaggio comune, che non è semplicemente la comunicazione, ma proprio anche c'era un orizzonte utopico comune. Questo, soprattutto col corallo del muro di Berlino, che meno male è crollato e così via, però contemporaneamente la sinistra, intendo un senso molto ampio, vogliamo chiamarlo in altra maniera, quelli che vogliono cambiare il mondo, quelli che stanno in basso a sinistra, come dicono i zapatisti, non siamo riusciti a articolare un nuovo orizzonte utopico. Quello per me è creare delle culture di resistenza, cioè dire vogliamo arrivare lì, critichiamo la società attuale, abbiamo degli strumenti per arrivare, abbiamo dei valori, una certa etica per arrivarci. Questo secondo me è il linguaggio che manca, che non è soltanto utilizzare un linguaggio nuovo, invece di usare la teoria di classe, utilizzo, non è soltanto quello, è proprio su che cosa intervenire, che forme di gestione vogliamo avere ad esempio qua a Torino, o piuttosto in Rojava, o piuttosto in Chiapas, o a Hong Kong. Magari ci sono delle forme radicate nella storia, radicate nelle comunità, che sono diverse. Esempio, nell'ecologia sociale proponeva su base geografica, quindi parla l'assemblea di comunità, in Rojava, nella confederazione del nord-est della Siria, a livello di strada, a livello di quartiere, a livello di più quartiere, quindi città, di province e così via. Quindi a livello geografico, come proponeva l'ecologia sociale, però gli sono andati anche oltre, cioè hanno anche creato delle assemblee su delle tematiche. C'è l'assemblea dell'esercito, c'è l'assemblea di sanità, delle infrastrutture, della giustizia e così via. Quindi lì hanno già tradotto in maniera diversa l'ecologia sociale, la teoria, tra virgolette, diceva una cosa, poi hanno fatto diverso. Lo stesso, io sono stato in Brasile nel 2013, c'erano state delle manifestazioni oceaniche, è stato un periodo di grande fermento. La stessa cosa, il movimento ha cercato di decentralizzarsi in maniera geografica, contemporaneamente creando anche delle commissioni di lavoro su determinate tematiche. E lì è, per me, un esempio puntuale di come una teoria viene modificata da pratiche contestuali di quel determinato spazio. Tu dici che il concetto di impressione, delle varie modalità relazionali in cui l'oppressione si manifesta, è più ampio ed è più efficace. Da punto di vista della comunicazione, di una nostra condizione, del nostro stare al mondo, insomma. Secondo me sì. Io sono anche uomo e bianco. E lì c'è una... ci sono altre dinamiche che quando parlo di dinamiche di classe vengono perse. Oppure quando ero in Brasile, come uomo bianco europeo, avevo dei privilegi che per me erano impensabili e non avevo qua. Cosa con cui dovevo, in una qualche maniera, fare i conti per poi cercare anche di costruirli e vedere che le relazioni che avevo con le persone in Brasile erano comunque immediate da questa... dal mio essere semplicemente bianco europeo. che forse la... sì, quando si parla di classe, ma si perde, ecco un po'. Quello che intendevo io, la domanda che tu hai posto, cioè a cosa può servirci parlare di classe o di quello che vogliamo, ecco. Proprio questo. Io mi venendo a pensare, cioè che tutte queste forme di oppressione non sono per nulla false, nessuno sta dicendo che non esistano. Anzi, l'idea è vedere come però queste forme di oppressione, queste forme di dominio non nascano in astratto, ma nascano nella storia e in una storia che è espressione di rapporti di forza materiale. A cosa può servire parlare in questi termini oggi? Ma magari non è particolarmente attraente, quindi possono anche cambiare se vogliamo. Però uno dei vantaggi che può offrire questa prospettiva è proprio quella non di negare le identità o le comunità, che non sono solo comunità geografiche, perché io posso essere un membro della comunità LGBT, comunità virtuale, comunità morale in un altro senso, quindi non negarle, ma riportare. Riportare, cioè proprio ricollegare, ritrovare la radice delle oppressioni, delle questioni sociali, culturali, eccetera, nel piano materiale di esistenza, ovvero nella produzione e riproduzione delle condizioni di vita. E vedere come anche queste forme, le identità culturali, le identità etniche, per non dire razziali, pensando magari un po' più in inglese, non come suona così male in italiano, di genere, eccetera, a vederle storicamente, come si sono prodotte e come si producono e si riproducono e come hanno, non sto negando che abbiano un loro impatto e una loro efficacia, sicuramente, però a partire dalle condizioni di esistenza materiali. Se ho capito bene quello che lui vuol dire, è che il concetto di oppressione precede anche l'attuale sistema sociale, ma che cosa mantiene in vigore certe forme di oppressione? E le funzionalizza alla riproduzione materiale del sistema, che poi vuol dire che non si può uscire da questa specificità storica delle forme di oppressione che oggi sono mantenute in vigore del fatto che, insomma, tu sei reso funzionale, questo è il concetto di classico, credo, che sei funzionale alla produzione di profitto, o non lo sei.